Un evento no profit per riscoprire le antiche tradizioni di Mandia. Torna nella frazione collinare del comune di Ascea la festa degli antichi sapori, giunta quest'anno alla sua 31esima edizione. L'appuntamento è a partire da domani, domenica 18 agosto, fino al 20 agosto, con l'apertura degli stands enogastronomici alle 20.30. L'evento, di cui Rete7 è emittente ufficiale, è organizzato dall'Associazione Culturale Comitato ProMandia, con il patrocinio del contributo economico del comune di Ascea. Tante le delizie culinarie per soddisfare tutti i palati. Dall'antipasto locale alla pasta e fagioli di Mandia, dai fusilli al sugo alle castagne e fagioli di Mandia, dalla salsiccia di maiale alla braccia con patatine fritte, al vino, pane casareccio e birra artigianale del Cilento. Non mancherà un'attenzione particolare alla cultura. Sono previste infatti visite al centro storico e in particolare la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista del XVIII secolo d.C., il Museo della Civiltà Contadina, la mostra della fotografia d'epoca e gli spettacoli artistici. Per le visite guidate nel centro storico va contattato il 347-76-64-192. In ogni serata uno spettacolo musicale a partire dalle 22. Il 18 agosto Angelo Loia e Progetto Oizza, il 19 Tamorrasia ed il 20 Ritt Antico. Inoltre mercatini dell'artigianato locale, spettacoli artistici con sorprese e curiosità nel centro storico, un comodo servizio navetta gratuito nel paese con la possibilità di parcheggio anch'esso gratuito non custodito. Tutti gli aggiornamenti sulla trentunesima edizione della Festa degli Antichi Sapori di Mandia nella pagina Facebook Festa degli Antichi Sapori di Mandia. Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 331-1953-038 e 347-1809-402. Un appuntamento dunque assolutamente da non perdere con tre serate all'insegna dell'enogastronomia, della musica, della cultura, delle tradizioni e del sano divertimento.